Allora Gino Notarangelo, Presidente Feralberghi Capitanata, sta per terminare l'anno 2018, anche se è una splendida giornata, tutto sempre a favore che l'ultimo dell'anno. Che bilancio si può fare in termini turistici della nostra realtà locale e provinciale? Di sicuro sono un anno in miglioramento, siamo contenti di quello che è successo, soprattutto negli ultimi anni, una crescita del turismo. Quindi ci aspettiamo ancora tanto, il nostro territorio è un territorio che può esprimere ancora tanto, tanto nascosto. Sta a noi operatori riuscire a esprimere il meglio nel far vivere quell'esperienza al turista oggi che necessita, rendendola sempre più esclusiva. Queste sono le parole chiavi che preannunciamo verso il 2019 nel rendere sempre più esclusivo il nostro territorio, lasciarlo scoprire e farlo vivere ai turisti che ci vengono a visitare. Perfettamente ragione, Vieste fa tante presenze, parliamo del caso di Vieste, però sono in tanti che ancora non conoscono il Gargano. Assolutamente no, abbiamo davvero tante, tutta la Capitanata ha molto da far scoprire ai suoi ospiti, siamo ricchissimi. Abbiamo veramente la montagna che scende al mare, un territorio così ricco, davvero è difficile trovarlo in Italia. Pertanto dobbiamo specializzarci sempre di più su quelli che sono i nostri attrattori culturali, naturalistici e renderli sempre più esclusivi. Sono i nostri tesori, non vanno sprecati ma valorizzati. A ognuno farlo scoprire questo tesoro e renderlo unico per loro. Probabilmente una mano può darla anche il governo. Il Presidente Conte qualche giorno fa è sceso a Foggia per questo patto. Fiducioso come Presidente di Fede alberghi? Siamo sempre fiduciosi nei confronti della politica, a volte purtroppo siamo ancora in attesa di risposte, ma la speranza è l'ultima a morire. 2019 come si prospetta? Il 2019 si prospetta in maniera particolare, il mare Italia avrà delle ripercussioni, c'è tutto il Nord Africa che sta ritornando all'attacco, si sta ripreparando. Pertanto le località che si sono sapute organizzare meglio negli ultimi anni di sicuro riusciranno a mantenere. Quindi ecco perché il consiglio era quello di rimanere, di specializzarsi sempre di più e di raccogliere. Altrimenti chi non ha saputo organizzarsi nel passato rischierà di avere dei colpi di coda. Io credo che al di là della buona volontà che pure c'è degli operatori del settore, da noi mancano ancora le infrastrutture. E questo è un aspa di Damocle? Sicuramente sì, è inconcepibile che il nostro territorio, la Capitanata, rappresenti il 52% dei posti letto dell'intera regione Puglia ed è praticamente abbandonata senza aeroporto, senza autostrade, a parte il casello di Foma. Tutto il Gargano, che parliamo di San Giovanni, Vieste, Peschi, Cirurri di Gargano, quattro comuni che hanno il 52% dei posti letto dell'intera regione Puglia, sono senza infrastrutture. Questo è inaccettabile ed inconcepibile, rimanere e ritardare questi sviluppi. Bisogna allontanare quelle che sono le paure, le conseguenze che si dicono che se parte l'aeroporto a Foggia si toglie traffico a Bari. Questo non è vero. Chi ha studiato turismo sa soltanto che un nuovo aeroporto, delle nuove infrastrutture, possono portare altri milioni di viaggiatori anche da noi. Più siamo e meglio è. Più turisti arrivano. L'importante è farli arrivare. Poi sta ognuno di noi a curare il proprio cliente. Ma è vero che esiste un dualismo tra il Gargano e il Salento? Secondo me no. Oggi sono due identità completamente diverse. È rimasto soltanto un aspetto soggettivo di noi comuni mortali. Quindi dobbiamo lavorare per la nostra strada e far emergere quelle che sono le proprie identità e valorizzarle.